gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia matteo salvini nel 2020 si conferma il re dei social italiani il primo politico senza dubbio e il principale anche twittatore del 2020 la pandemia non è riuscito a fermare la sua propaganda social quindi parliamo di una figura dominante dal punto di vista degli dei social network capace di catalizzare l'attenzione anche durante l'emergenza sanitaria emerge da un report di utopia che ha analizzato l'attività dell'intero anno 2020 quindi il nel 2020 il segretario della lega salvini è il principale twittatore con la sua macchina organizzativa che è riuscita a piazzare in vetta hashtag che lo riguardano anzi rispetto a tutti gli altri salvini è quello che più si distingue per la capacità di fare un mix tra comunicazione personale e politica e di partito ha dominato i social pur con temi meno tradizionali come l'immigrazione e la crisi economica relegati in secondo piano dall'emergenza sanitaria però c'è stato lo stesso un uso intenso dei social c'è stato comunque un numero in calo di condivisioni e di mi piace mentre abbiamo anche fratelli d'italia che ha registrato ha registrato un ottimo un'ottima crescita delle visualizzazioni dei video dei mi piace e delle condivisioni mentre il movimento 5 stelle che invece twitta molto di meno ha un elevato tasso di quella è una parola inglese come si può dire un tasso di fedeltà perché ha un pubblico targettizzato cosa vuol dire che pochi pochi che seguono il movimento 5 stelle ma quei pochi sono molto assidui nel vedere tutto quello che pubblica quindi mettono più mi piace questo è un qualcosa che viene valutato anche nelle piattaforme nel senso il canale che state guardando che ha 100.000 iscritti però ha un tasso di fedeltà elevatissimo perché le visualizzazioni ogni giorno arrivano per oltre il 65 per cento dagli iscritti al canale mentre di solito un canale normale chiamiamolo così medio che può avere anche milioni di iscritti il target di fedeli chiamiamoli così 5 6 per cento per esempio un canale che ha un milione di iscritti solo il 5 per cento di quel milione realmente ogni giorno vanno a vedere quello che pubblica quindi molti canali hanno tanti iscritti ma gli iscritti a volte neanche si ricordano di essere iscritti a quel canale lo guardano una volta all'anno una volta ogni tot settimane quindi sono iscritti magari perché sono iscritti anche tutti gli altri ma poi realmente non partecipano alla vita del canale questo è il tasso di fedeltà riguardo ai social network quindi non è tanto non è tanto quanti sono iscritti ma quanto di quegli iscritti ogni giorno vedono questo lo potete rilevare perché questi sono dati statistici che forniscono le piattaforme ma chi non chi non ha non è proprietario del canale non può vedere questi dati statistici ma da che cosa ve ne accorgete ve ne accorgete dal numero di commenti dal numero di mi piace o non mi piace ricordatevi che mettere mi piace o mettere non mi piace ha lo stesso valore sono reazioni positivi o negativi sono reazioni quindi il mi piace o il non mi piace hanno lo stesso tipo di di peso sui social quindi vi stavo dicendo che se voi volete vedere realmente la fedeltà a un canale guardate i mi piace guardate le condivisioni o guardate nella community come di questo canale quanti partecipano a i sondaggi ci sono sondaggi che arrivano quasi a 12.000 risposte per quanto il sondaggio possa essere cretino arrivano a volte 12.000 risposte o 2.000 mi piace sotto una fotografia quello fa vedere realmente il volume come come giro all'interno del canale poi il report dice è interessante notare come i tre partiti che fanno registrare maggiore interazione in base al numero di seguaci siano Italia Viva e Azione segno che dispongono di una base poco numerosa ma molto attiva quindi abbiamo detto Movimento 5 Stelle Italia Viva e Azione hanno un nocciolo duro molto attivo pochi non pochi ma buoni pochi ma molto attivi naturalmente poi quando come i social di Matteo Salvini arrivi tra i 4 e i 5 e i 5 milioni ovviamente molti si iscrivono però il nocciolo duro in percentuale diventa sempre più piccolo io vi ringrazio per avermi ascoltato ma vi do ancora qualche dato allora Salvini è il leader che ha twittato di più 10.311 volte pari al 46% del totale seguono Calenda 6.629 tweet il 29,6% e a distanza Meloni con 1.707 tweet il 7,6% sorprende tra aprile e maggio il sorpasso di Calenda nei confronti di Salvini chiudono Conte con 416 l'1,9% e Bonino 84 lo 0,4 tra i leader meno attivi explora di Berlusconi a maggio che con 122 tweet ha quasi eguagliato la Meloni 129 ponendosi tuttavia in posizione più moderata verso il governo e le sue misure per contenere la pandemia bassi valori assoluti e curve piatte per Di Maio e Zingaretti le cui leadership puntano meno di altre sulla presenza su Twitter l'hashtag che si è notato di più nei social è Salvini testimonianza della centralità della Lega a seguire l'hashtag coronavirus e covid-19 hashtag di più politici come recoveryfarm, di PCM sono stati usati meno di io sto con Salvini, processate anche me impiegati per difendere Salvini sul caso Gregoretti io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti